A metà della manifestazione davanti alla prefettura un gruppo si allontana da Piazza Duomo e cerca il dialogo diretto con i direttori di filiale. Questo è il gesto simbolico dei sindacati di categoria nel giorno in cui si chiedono risposte dalle banche per garantire il futuro di ACC. La presenza di manifestanti con bandiere e striscioni davanti all'unicredit di Piazza dei Martiri o alla banca intesa davanti al teatro comunale non ha nessun intento polemico o bellicoso. Non è a Belluno che si scrive la storia di questo nuovo progetto di rilancio dopo anni di tentativi a vuoto ma nelle sedi centrali degli istituti bancari. Ai direttori di filiale viene consegnato un documento, un'ulteriore richiesta di sostegno recapitata a mano. Un eventuale intervento ponte, ricordano i sindacati, sarebbe garantito dallo Stato. Il fondo è un fondo che comunque è integro, i soldi nel fondo ci sono. Secondo me le banche attendono solo di avere garanzie maggiori rispetto a quello che hanno. Loro dicono ACC non è stato un altro cliente nell'ultimo periodo. Io non credo che ci sia incertezza, poi tra l'altro poi fra un po' avremo anche ulteriori risorse da dedicare alle politiche industriali nel paese. Io credo che ci sia solo, come posso dire, la necessità delle banche di capire ancora meglio quanto questo intervento possa raggiovare anche loro in termini di immagine. Su ACC, dopo anni di difficoltà, grava un pregiudizio? Io non credo che ci sia un pregiudizio. Credo che i motivi delle banche siano legati a motivi essenzialmente commerciali. Non c'è secondo me un pregiudizio. Anzi, forse nell'ultimo periodo è cresciuta invece la consapevolezza a livello non solo provinciale ma anche nazionale che questa è un'azienda sulla quale si può ripartire, che deve fare piano anche di una strategia più ampia di sistema. Credo che il pregiudizio, se c'è stato, oggi è quanto mai scemato.